Salve a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento di Tirole di D'Armonia. Come primo argomento oggi trattiamo la posizione da assumere davanti al pianoforte, come stare seduti davanti a una tastiera. In questo caso come vedete la posizione consigliata è quella al centro dello sgabello, però mantenendosi sulla punta in modo tale da avere un busto che possa inclinarsi e quindi anche orientarsi sia a destra a sinistra. Al tempo stesso le braccia devono stare ovviamente a fianco del busto e le mani parallelamente alla tastiera con la cosiddetta posizione delle dita a martelletto in modo tale che si possa avere una pressione forte o piano a seconda dei suoni che si vogliono avere. Al tempo stesso anche ovviamente le gambe Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.